Studio dentistico, buongiorno, sono Laura. Buongiorno signora, dovrei fare alcune domande. Intanto lei sta bene? L'intervista telefonica preventiva sullo stato di salute dei pazienti è solo uno dei provvedimenti integrativi che si sono aggiunti ai già severi protocolli di prevenzione e disinfezione negli studi dentistici. La paura del contagio dal colonnavirus ha provocato anche qui il crollo del numero di pazienti che vengono a farsi curare. Lo studio odontoiatrico già da tempo è strutturato e preparato ad affrontare patologie ben più gravi del coronavirus e quindi tutto quello che è il processo di disinfezione, pulizia e sterilizzazione degli studi avviene già da tempo e contro situazioni ben più gravi. Ad oggi gli spostamenti dei cittadini sono autorizzati anche per comprovati motivi di salute. Ecco che le terapie urgenti e quelle non differibili sono garantite posticipando tutte le altre. Basterà chiedere al proprio dentista di certificare con un semplice sms o un documento da esibire su smartphone che ci sta muovendo proprio per sottoporsi a terapie odontoiatriche. Buongiorno, buongiorno. Le lascio con il gel. Grazie. Prego. E si accomodi pure in sala d'attesa. La mia. Grazie. Allora in primis una riorganizzazione dell'agenda. In questa maniera riusciamo a dilazionare gli appuntamenti ed evitare che ci siano assemblamenti all'interno della sala d'attesa. Poi c'è la sanificazione di ogni ambiente nel cambio tra un paziente e l'altro e quindi l'aerosol viene eliminato con il ricambio d'aria. Per evitare che ci siano infezioni agli operatori e poi crociate ai pazienti ci sono anche i dispositivi specifici di protezione. Rimandare le cure odontoiatriche per eccessivi timori non è una scelta razionale. Se trascurata si rischia di peggiorare la situazione dovendo poi magari ricorrere al pronto soccorso complicando la vita negli ospedali già messi a dura prova. Gli studi odontoiatrici sono sicuri. Le cure vanno continuate per non intasare gli ospedali. Quindi continuate a curarvi. Grazie a tutti.